non potevano mettere le panchine però eh oh metti o non è venuto oggi? no 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 non mi piaceva a me hai visto che uno è scendo dalla macchina è andato a ricamare col picci perché doveva passare vieni voglio costarmi qualcosa è fermo? è la polizia no no è la polizia io l'ho fatto lo stesso no non ti possono dire niente dove facerò la gara? no queste ancora no hanno detto 30 minuti e noi aspettiamo 30 minuti quelle fanno la gara? quelle? no no sono ancora più belle no fanno la gara quelle biciclette fanno la gara di cibo stai qui adesso che fa paura cosa lì fa? quella piacerebbe non c'è il colino vanno alla gara dai che arrivano vada dai che arrivano vada dove arrivano qua? dove arrivano? pensavo che era uno di quelli da cibo? ci dicono che erano le biciclette vanno una gara? si 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 allenano impatti no è un granito partito vediamo tu quando vedi una macchina così penso che dai bicicletti dai cervenati indietro qua ci metteranno 6 minuti ci mettono 13 minuti e dallo mattico arriva qua alzati alzati quando inizi a vedere la prima bicicletta schiacci ma vuol dire che stanno arrivando o no? si sono arrivati alla prima battuglia di vici nostri poi quando passano ti metti lì sei seduto? non seguirli un'altra macchina dai forse forse si avvicinano no con le quattro frecce no no eccoli qua eccoli qua stai vicino a me eccoli qua che arrivano inizio gara ciclistica inizio gara ciclistica guarda 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 un'altra macchina rossa 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 adesso sediti a mamma non posso tenerti quando hai schiacciare la camera inizio gara ili no sapito aspetta mettiti qua mettiti qua col bimbo vieni vieni alzati ma io sto seduta no ecco stai ferma qui si ma la metti nel cammino dei fassini è passata la macchina con no ma si stanno bloccando lì questa è la mia macchina messa male si sta passando no no ma è fabbino ma per venire a spasciar dentro da lì cazzo fermati qui eh non ne filmo tira un'altra che funziona ma io se metti qua la mano mi faccio soltare no lui si accosta quando è che è lì? ma quante moto vai inizio a rimare è bello ma 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 mi stanno passando tanti di moto però eh non è arrivato ciclisti e ormai ci saremo eh una altra moto Quante! Tante! Ci sono arrivano tante moto C'è una campanella. Che vuol dire? È suonata? Non guardare, stai fissa lì che dopo schiacci la telecamera Aspetta! La moto! Adesso vanno alla casa! Dai ciclisti arrivate! No! Due minuti arrivano eh! Adesso arrivano sì! Due minuti arrivano eh! Adesso due minuti! Stai qua vicino a mamma! Siediti! Siediti vicino a me per favore! Siediti qua vicino a me per favore! Perché hai visto come si avvicinano? Due le camminano loro pensi che... Ma perché non girarci? Ma perché si è una campanella? Eh infatti! Cosa significa? Arrivano... Un'altra macchina della polizia La polizia! La polizia! Beh... L'Italia gira la sua polizia! E te eh! Ilary vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! E non riesco a finire! Sì vieni qui un attimo! Poi quando arrivano te lo tieni così! Aspetta! Travotazioni eh! Lo tieni così! Lo tieni così e schiacci la fotocamera! Sì però... E giù una varia di... Eh? Il progetto è un paio! Ok! E ti chiede! Vieni qua! Vieni qua! Ecco dai! Qualche bici! Sì! 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 Brava! Bravi! Bravi! Dai! è in fuga quei due lì ma non c'è nessuno e ora arrivano, te continua amore è in fuga però non dovete capire nessuno adesso stai qui, hai visto che stanno arrivando eh vedi l'elicottero guarda il telefono, devi vedere la strada che è l'elicottero sta registrando è quella della RAI, sì, è quella della RAI io ho finito il nuovo locato e non c'è una televisione peppone 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 vedi che stai per salire eh ma d'ora è tu ecco lì, ecco lì, ecco lì dentro le gambe Josue, tieni dentro le gambe forza vai 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 might vai vuoi diventare parte integrante vai un'altro gruppo in giro mi sa eh non tutti questi hanno fatto pure il traffico fermo qua mamma mia attenzione che questa sorpassa ma quante ce n'è di macchine ora per ogni squadra si stava bene quando è passata l'aria dell'elicottero abbiamo aspettato proprio che si scarcasse il telefono quindi sono alla parte di tutto il mondo dei cittadini è terminata lì andiamo grazie grazie